E' una partita unica, è la partita, colori straordinari, incitamento, passione. Avevo detto che cascava a pennello perché in gioco in palio c'erano tante cose e sono contento, stracontento per questa vittoria, per i calciatori e per tutti i nostri tifosi, per la passione che ci mettono. E quando li ripaghi di queste soddisfazioni chiaramente sei ancora più soddisfatto, ancora più contento. Le partite le ha sempre giocate con un certo piglio e questa è la mia cartina tornasole. Il fatto che la squadra faccia un certo tipo di partite, interprete le partite in un certo modo, per me sono risposte. Poi è chiaro, si può vincere, si può perdere, ma la squadra non ha mai abbandonato il suo allenatore. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto una partita più sulle ali dell'entusiasmo, delle grandi motivazioni e un po' più in maniera individuale. Invece tra il primo e il secondo tempo ho detto ai ragazzi che noi dovevamo fare più il nostro calcio, che era quadrato, organizzato. E lì non abbiamo concesso praticamente nulla al Genoa, tranne quelle lunghe palle in area dove potevamo subire un po' il gioco aereo. Ma i nostri quattro sono stati, i quattro insieme a tutti gli altri, ma sono stati straordinari. di una pulizia e di un equilibrio in una partita dalle mille emozioni, una partita delicata. Il Presidente mi è stato sempre fatto dichiarazioni positive. La dedica che lui fa a me, io la giro ai miei calciatori e ai nostri tifosi.